Passiamo all'interrogazione numero 3476 presentata dai deputati Gadda ed altri che ha ad oggetto iniziative volte ad accelerare e semplificare le procedure di rilascio e rinnovo dei passaporti. Il deputato Benzoni ha facoltà di illustrare l'interrogazione di cui è confermata. Grazie Presidente, grazie Ministro. Noi riproponiamo nel question time un'interrogazione che avevamo già svolto il 25 gennaio 2023 e ascoltando la risposta del Ministro che proponeva alcune soluzioni rapide. Oggi riproponiamo questa interrogazione in quanto dopo circa sei mesi nulla è cambiato. Anzi, nonostante anche le parole del Ministro Santanchè che il 6 febbraio pronunciava vocazioni per cui in dieci giorni il problema sarebbe stato risolto, una recente inchiesta di altro consumo mostra come non solo la situazione non è migliorata ma in sei città su dodici analizzate sono peggiorati i tempi di rilascio dei passaporti nel corso di questi sei mesi. Ecco allora che le chiediamo quali azioni intenda applicare per risolvere questa questione che oramai diventa un'emergenza nazionale e per la quale tantissimi cittadini si stanno lamentando anche rispetto a una delle soluzioni che avevamo proposto oltre all'aumento del personale che era l'eliminazione di quel vincolo di territorialità che non permette ai cittadini di scegliere liberamente dove poter fare questa procedura. Grazie. Il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha facoltà di rispondere. Grazie Presidente, onorevoli deputati, io preciso immediatamente che il portale Agenda Online per il quale si registrano i disagi nella fissazione degli appuntamenti conseguenti all'elevato numero di accessi a tale sistema è soltanto uno degli strumenti di accesso agli uffici delle questure dedicati al rilascio dei passaporti. Rivolto peraltro ai casi privi del carattere dell'urgenza. A riguardo, informo che il 15 giugno scorso, peraltro, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ne ha ultimato l'adeguamento tecnologico nella prospettiva di migliorare la funzionalità. Nella fase post-pandemica è comunque di nuovo possibile avvalersi di una pluralità di canali di accesso per consentire la presentazione delle domande e la conseguente rapida trattazione per coloro che documentino situazioni di urgenza legate a malattie o lavoro, studio o turismo. Tra di essi figurano i cosiddetti open day, gli sportelli urgenze, gli indirizzi telematici e telefonici dedicati. Per quanto riguarda i tempi per il rilascio del passaporto, in quasi tutte le questure essi si attestano su quelli previsti dalla normativa di riferimento, che sono 15 giorni e in caso di ulteriore accertamento 30 giorni, consentendo per le ipotesi di urgenza di consegnarlo senza ritardo rispetto alle prenotazioni esibite o alle motivazioni addotte a sostegno della domanda. Sul piano organizzativo, poi, oltre all'aggregazione di personale appartenente ad altri settori e dal maggior ricorso ad ore di lavoro straordinario, è stata ultimata la sostituzione delle postazioni di front office e back office e degli uffici passaporti con nuove soluzioni più performanti. E tutto questo insieme di misure ha fatto sì che da 1 milione e 800 mila passaporti emessi in tutto l'anno 2022, quest'anno siamo passati agli oltre 1 milione e 340 mila passaporti emessi in meno di sei mesi dell'anno in corso, di cui più di 170 mila sono stati stampati ma non ancora ritirati dai richiedenti. Con particolare poi riferimento alle sei città segnalate dall'interrogante, come connotate da particolari criticità, le statistiche aggiornate al 19 giugno 2003 indicano che tutte e sei fanno registrare un incremento dei passaporti stampati rispetto allo scorso anno. Si va da un aumento del 137% di Milano ad uno del 244% di Torino. Circa la semplificazione delle procedure di rilascio. Io segnalo che il 13 giugno scorso è stato pubblicato il decreto legge numero 69 del 2023 che ha introdotto una modifica del procedimento di rilascio del passaporto o della carta di identità valida per le spatri in favore del genitore e di figli minori. In sostanza non è più richiesto l'assenso dell'altro genitore, salvo casi particolari previsti dalla disposizione. E quanto al vincolo della territorialità citato dall'interrogante, informo che la domanda può essere presentata in qualunque ufficio di polizia, fermo restando la necessità di acquisire elementi informativi presso la questura di residenza dei richiedenti. Insomma, le misure messe in campo hanno permesso di incrementare in modo consistente il numero dei passaporti rilasciati e addirittura i tempi di attesa, dando priorità alle situazioni di urgenza. Lo sforzo organizzativo continuerà anche sviluppando le buone prassi di sinergia già avviate, soprattutto con gli enti locali, per delocalizzare la ricezione delle domande, tra le quali, sinergie, rientra proprio il progetto Polis in partenariato con Poste Italiane. Grazie. Signor Ministro, con l'avvio della stagione estiva è noto che nelle città si registra una recrudescenza di fenomeni criminali legati, per esempio, allo spaccio di sostanze stupefacenti o al commercio abusivo o all'occupazione di immobili, o anche a quel fenomeno di recente apparizione nel nostro paese denominato come Malamovida. E questi fenomeni soprattutto sono radicati in quelle città, in quei contesti dove c'è un'alta presenza turistica e molto spesso questa alta presenza turistica coincide con le città più belle del nostro paese. Nella stampa recente abbiamo visto che lei si è occupato e ha posto la sua attenzione in particolare alle province di Rimini e di Macerata, disponendo tra l'altro dei servizi articolati importanti che stanno ottenendo tra l'altro dei risultati efficienti da un punto di vista proprio statistico. Quello che le chiediamo, Ministro, con queste interrogazioni è quale iniziativa intenderà intraprendere a livello nazionale per efficientare e innalzare i livelli di sicurezza in tutte quelle città, in quelle zone del nostro paese che hanno un'alta presenza turistica. Grazie. Grazie signor Presidente, onorevoli deputati. Dico immediatamente che ho impartito direttiva affinché fosse predisposto un piano per il potenziamento dei servizi di vigilanza estiva a vantaggio delle località ad elevata vocazione turistica. Preciso che la pianificazione si basa su criteri oggettivi che tengono conto sia dei dati Istat sulle presenze turistiche, sia degli indici di delittosità provinciale, con l'obiettivo questo di concentrare le forze dove si prevedono maggiori criticità. Tra le province interessate rientrano sicuramente Rimini e Macerata con significative assegnazioni di personale. Il modello, inoltre, è caratterizzato da elementi di flessibilità, nel senso che i prefetti, le autorità provinciali, sono chiamati a valutare in seno ai comitati provinciali per l'ordine della sicurezza pubblica le specifiche esigenze dei propri territori, legate ad esempio ad emergenze o alla programmazione di grandi eventi. E qualora all'esito di tali valutazioni i prefetti richiedano risorse aggiuntive, si procede all'assegnazione di contingenti di rinforzo. Il piano contempla altresì l'attivazione temporanea di uffici di specialità della Polizia di Stato, di presidi dell'Arma dei Carabinieri, nonché l'allocazione di mezzi navali del Corpo della Guardia di Finanza. Nelle località turistiche è anche previsto un rafforzamento dei dispositivi di controllo ordinario del territorio mediante l'impiego di 30 equipaggi del reparto prevenzione crimine della Polizia di Stato per un totale di 90 unità e di circa 150 equipaggi per un totale di 300 unità per il concorso nei servizi straordinari del territorio. Il tutto sempre in base alle specifiche esigenze rappresentate dalle autorità provinciali di pubblica sicurezza. Completano i dispositivi in parola alcuni assetti specializzati, quali le squadre nautiche munite anche di scooter d'acqua e di reparti a cavallo. Ho disposto inoltre che continui anche quest'estate il piano straordinario di servizi di controllo del territorio in modalità cosiddetta ad alto impatto, presso le stazioni ferroviarie e le zone limitrofe, avviato nello scorso mese di gennaio nelle principali città del Paese. Il modulo di intervento è basato sul concorso coordinato di personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, compreso quello delle rispettive specialità delle polizie locale e degli altri enti eventualmente competenti, ed è stato esteso anche alle zone della Movida e di alcune piazze di spaccio. Confido che il complesso insieme di queste misure consentirà di prevenire e contrastare con più efficacia i fenomeni di microcriminalità, abusivismo e illegalità diffusa che destano all'arme sociale tra i cittadini danneggiando l'immagine dell'Italia e la sua capacità di attrazione turistica. Grazie.